Cristo, tu lo fai la domanda che mi mette a Berlander? Beh, facciamo tre con mezzo a Berlander, fai i soldi e non facciamo niente. Certo, facciamo che cos'altro? Beh, facciamo una richiesta unica, dai. Ma non lo so, ma insomma, non scrivo da mai, cosa, non mi lascio da sola, niente, guarda. Porco Dio, guarda, tu decidi fare questa richiesta, fare queste richieste. Non sapevo, ti ho cercato l'altro giorno. Ma che mai ho cercato, tu ci fai le richieste, vai. Ma che cosa ci devo scrivere? Venti le nomi, che problema ti ho? Beh, ci metti, che ti pare, la chiusura per te, diciamo, falla. Beh, buono, è una richiesta unica, facciamo, non stavamo a fare tutte le ore di richiesta. È una richiesta unica, non ci fai, falla, no? Ma la mano che andavamo a fare, questa cosa la facciamo. Perché la facciamo? La potevamo pure fare. Perché non la vuoi fare? Ma, ma, sì, ci stanno in tre richieste, che cosa, porco Dio, questo è il problema. Ehm, calma, state calma, voglio dire, ci stanno le condizioni per farla, perché se non la facciamo questa domanda. Io mi preoccupo pure che facciamo questa domanda, perché se non la facciamo questa domanda, ci stanno le condizioni per prepararle. Unica, per nesta ogni giorno, cucita, l'autorizza tutto quanto, la poteva, se la facciamo la facciamo, se ne facciamo, ne facciamo. Beh, che cazzo ti... Beh, beh... Non lo dicevi di fare, perché l'è fatta. Beh, pensiamo che l'è fatta. Ma non è cesta l'altro giorno, ti sono cercato, ieri, un disarci d'altro anno, per sapere che cazzo veniva, che non veniva, che ci tengono la scrive, che non ci tengono la scrive. Se lo voleva fare pure per stai sotto, perché non diciamo, è tutto subbellante, perché, cioè, che firmane, che firmane uno pingo pallino, firmane un'altra volta cose, non lo so fino a che punto serve, capito che voglio dire. Allora facciamola a stai sotto, una settimana, che tu tutte le settimane sti su, a che serve? E anche ad annunciarle, cioè a fare la richiesta, a poi non farci venire nessuno, va pare pure fuori luogo. Capito che voglio dire? Cioè, piuttosto che farmene un'altra volta di fiori, fiori lo facevano alle chiusura. Non ho detto fiori. Beh, ho capito, dovevamo restabilire pure che cosa fare. Poi l'altro, beh, vado, ma stavo a 10, per la riunione, ha arrivato il materiale, la cosa è un'altra, che andava a fare pure un'assemblea, ma ha stretto il giro per il lavoro capillare. Eh, perciò volevo... Ma lo teniamo, lo materiale? Ma a sera ci stiamo, lo materiale. Eh, allora chiede che ti devo fare? Facciamo questo quadro e buonanotte, no? Che cazzo stiamo a fare? Ogni giorno, ogni giorno stiamo a fare le richieste. Ho capito, ma per scrivere anche a mano, per scrivere una richiesta, se glielo sono, non ci volevo mica a fare l'Antonio. Ma io l'ho fatto, mamma, sono venito, porco Dio. Dassù, dassù, e ne potevate tu mannà che non ce l'hanno fatto, io stamattina sono stata a ferma. Sono stato a preparare altre cose, beh. Ho capito, ma posso fare la richiesta per questo? Dicevo grandi cose, io ti avevo... Ma ci pensi, io sono solo fatto per confermare, solo se c'è la conferma, ma qua... Me ho capito, però, che ho cercato per vedere chi veniva, chi non veniva, per fare le richieste, perché se no sembrava che facciamo le richieste, appunto non facevamo mai iniziative, ci facevamo la figura del cavolo, no? No, a parte la chiusura, a parte la chiusura finale, a parte quella, ma proprio per queste settimane, siccome tutte le... Ne parliamo solo nessuna. Ma non ho capito, non ho capito. Che prepari, per me liate, per me li costruisci, io ti scrivo tutto quello che cazzo ti pare. Hai capito che voglio dire? Però non facciamoli fraureti, perché poi scriviamo mai, poi scriviamo pure a mare. Sì, state su, non c'è una venite. Non l'avevi fatta, beh, io ora sono calza e sono volato per sincerarmi. Eh, per sincerarmi, perché se tu vanno a casa, io ti lo dicevo che... Porco Dio, sono stata a fare altre cose, ma avete meno? Beh, affricciò, voglio dire. Però non è meglio un problema, una volta è sempre sulla disperata, una volta è sempre sulla disperata, una volta. Oh, madonna, qua. Questa è sempre... Ma è pronta, fissima la richiesta di cui passi, questo che è? Allora, allora perché non la facciamo allora, che facciamo soltanto la richiesta quella? Perché non la facciamo allora? Cioè, se cazzo tutti i giorni scrivono, 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 se lo scrivono, perché se la fiammano non va bene la richiesta? Cioè, ci vado per forza a scriverla, non lo so io. Ma facciamo male, beh, ma non è questo il problema, pensavo che era stato fatto... L'ho capito, non ci siamo visti, non ci siamo visti, non ti ho trovato, adesso tu... Non ti ho pensato, è trafato. Ma se non ti ho trovato, ti ho chiamato, non ci stai mai... Non ti ho scelto a trovare, ti volevo chiedere a punto di spalle. Ti ho trovato ieri sera, non ci siamo visti. Ah... E non ci ho pensato, smettelo e buonanotte, che cazzo vuoi? Ma non mi stai... Mi stai... Non lo so, 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 non lo so. C'è un problema, ci vado, dure e buonanotte, non è nemmeno un problema, ne facciamo desperate. C'è un desperate, è una questione che tu le leppe, se non c'è una cosa... Ho capito, ma lo siamo detto poi strade, lo siamo detto poi strade, non l'avevamo precisato. Lo siamo detto solo ore e non siamo detto se farlo tutto a bellante. Ci sta tutta la questione qua giù sotto, se ci vuoi fare la chiusura, la chiusura qua giù sotto, l'urna prima della chiusura di venerdì, lo siamo detto che stiamo a scrivere, facciamolo tutto complessivo e buonanotte. C'è piuttosto che inventarci, perché poi sono impegnative, una volta che te l'autorizzate, non lo so io. Se ci stanno le condizioni per farle. Facciamolo un quadro complessivo, la faccio unica, in questo senso non era fatta, perché se no che cazzo di problema c'è? Io altri giorni, stavo su uno, giorni dopo, anzi il giorno dopo che ci vedemmo, che fu a questo dire. E però, cioè, siccome non passai per niente qua, c'è, escevo subito, non mi arrivavo in mente, un po' su, pensavo di vederti, non so, vesti per niente, non è stata fatta. Come vuoi fare allora? Facciamo, la faccio comunque per domenica questa? Tredici. Ah boh, intanto facciamola, poi se non ci stanno andando a fine, che cazzo ti devo dire, perché poi è domani, domani è sabato. Non ci stanno andando a preparare i manifesti, perché ho detto che mamma... Che li attacchiti i manifesti da te, Giulia Andorio? Te lo ha preparato, te lo ha preparato. Non lo ha preparato, non lo ha preparato, non lo ha preparato. E beh, appunto, se fa, su, ma a sera se fa. Se fa la riunione o per il lavoro, li assembliamo, fanno un quadro, dopo l'anno faccia assemblee, se lo vogliamo fare. Ah boh, l'assemblea non ci serve la richiesta, ma non l'hanno fatta l'assemblea, che cazzo chiamateci, pizzi? Stanno facendo un calentario, e il polo va da solo, ma a sera che c'è la penna, ma a sera chiarete, come mangiare a penna. Beh, allora che fanno? Qui stanno facendo scrivere. Ma a sera c'è la cena? Sto detto, guarda un po'. Io votano. Sto detto, guarda che noi, a questo che sta facendo tutta la riunione, noi non c'è un po' niente. Beh, a boh, hai voluto fare il muro, hai voluto fare il muro. Pug, lui è che sta... Io, cazzo, stasci di riunione, che vuoi? Vabbè, ma noi te ne avevamo portato forse un candidato. Ma perché è questo? Non gli ero detto che era per forse candidato. Aspetta un momento, che ha sponso l'altro telefono, scusa un attimo. Pronto? Dimmi. Non si gioca questa settimana. No, noi riposiamo perché sono cinque, ci abbiamo la partita, ci abbiamo la giornata libera. Però giochiamo la prossima settimana fuori. Eh, a voi te ne mi chiedono. Eh, non lo so. Io ti ho cercato... Eh, ti ho cercato ieri, ma ti so c'è da tracciare. Ciao. Dimmi. Io ho chiesto iniziativa con lui. A chi? Allora, scusate, lui lo può fare con tutte le forze, perché lui non è d'accordo. Eh, ma gli chiede la cosa, già già state lì, incontro a Pizzo. Ste cose, valutiamole per quelle che sono. Questi sono nulli e fuori di dubbio. Però voglio dire... Domenica 20, è bellante. Domenica 20, quando cazzo? Eh, domenica e 20. Beh? Pronto? E a fare un comunezzo è bellante. Domenica mattina? Eh. E allora, già fatta la richiesta? Con l'altra, il 20 e con l'altra domenica. Domenica questa è 13. Sì, si ha fatto la richiesta. Però noi, ti lasciamo che sta parlando di fondazione, io non ho tenuto parte socialista. Ma ti ha chiamato lui? L'ho chiamato io. Eh? Perché ha chiesto e ha fatto tutto. Sto facendo... Eh, lo so, capisci? Ma ci mancano pure 20 giorni, ci mancano 15 giorni. Oggi è 12, 15 giorni è il 27, oggi è 11, domani è 12. 15 giorni ci mancano due settimane. Quindi, che tenevo la fame? Questa masticità è una cena, sa su cosa? Perché me ne tracca di cena. Per dire... Parlava con chi? No, però voglio dire, noi, indipendentemente sullo fatto che mi avevano candidato, che poi potevamo, non ero stasso, perché non erano problemi. Capito che voglio dire, Renzo si trattenne dal dire, ma bo, cominci l'apertura, una gola, una manifestazione, un affare, poi per un lavoro... Ma bo, cominci l'apertura? Che ci entra? pure. E noi dicemmo che, insomma, un po' di difficoltà ci stava, però, invece, ora, questa trattativa fu chiusa un po' cuciene, voglio dire, non lo so se noi ci conviene o non ci conviene, però diceva Renzo, almeno, di non sovrapporci nelle varie realtà. Ah, però, gente, il lavoro, diciamo, delle assemblee, non è che si parlava degli eccenzibri, ma che ci parla, capito, anche se poi noi... Allora, Robè, puoi fare un minimo di calentario? Eh, ti stai a scrivere. Allora, domenica 10.30, 11.30. Che mettiamo? Sandro e me la mangio. Ma ci stai, rapuce, un pepe. Perché ce l'ha fatto un forzo, la donna? Beh, vabbè, comizio. Eh, poi... Domenica, questa è domenica 13, poi domenica 20. Benissimo, in... 11.30, poi... Chiusura per la restazione, ci sono due. Beh, ma... Ma s'aiuto che pensate di fare? Sono la chiusura o vuole fare un'assemblea? No, poi ci facciamo l'assemblea. Capo, l'assemblea non avevano problemi perché la facciamo dentro. Poi ti direi di fare un programma, non, 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 non... Ma c'è pure un programma di assemblea. Tutte l'assemblea. In Arrapattine, in Acchiarate, in San D'Agile, in Quaiù a Villardende. Che ci portavo tutta la stazia. Villardende? E Villaracic, non già stai giù, Luca, lo vedi? Eh, lo dà, non troviamo qualcosa, lo dà. Beh, però se io non lo so, se io, Luca, se poi... Vabbò, vabbò, questo poi non è un problema, facciamo questa richiesta. Allora, domenica 20 va poi comizio appellante. Poi facciamo chiusura... Chiusura la stazione. Ancora la facciamo la sera, giovedì 24. Giovedì 24 a che ora? 24, dove dici? Via Saliceti. Eh, via Saliceti. Ma non serve. La bomba, scusura, eh? La bomba. E poi... Venerdì sopra... Venerdì sopra 11... Quante facciamo? Mettiamolo a mezzo. 10-11. 10-11? Sì. Venerdì 25... Ore 22. 23. Mettiamo dopo, papù. Capù si incisca che se... 23-24. Eh, basta così. Con fiori di giacinto. E fanno un programma puro di cose, di... Di lì assemblee. Papù, questo mo' ci vediamo, su. Sì, appellando, potremmo fare a Borgo Martino, pure appellando la faina. Ma serve sti cazzo di assemblee, vizi? Programmiamo, poi che facciamo che li tremo. Eh, beh, perché nelle zone se facciamo documenti e sta su, francamente, che tanto di argomenti non ce ne sono. Dovremmo anche ritagliare, perché la settimana del 20, da domenica 20 in poi, anche se si tratta di cominciare pure prima, ci sta da fare l'azione capillare. E quindi le assemblite, ma la faccio la settimana che viene. E beh, perché se no che fine? Ho organizzato, lo volo andino, mi spedisco 2.000 lettere. Come spedisci 2.000 lettere? Ai campi famigli, con un faccio simile e un po' di, mi fai molestando il lavoro capillare. Eh, vabbò. Vabbò, allora io questa la faccio... Eeeh, gliela porto, bu, su. Gliela porto. Oh! Quanto le chiesto in chiarete, prepara, un circolo. Per che giorno? Eh, lo metto tu, lascio lo spazio, lo giocio molto. Ma penna. Vabbè? Lo concordiamo, poi ci metto il tuo scuola a panna. Ah. Discuss. Vabbò, ma questa poi tu che fai? Te la lascio stai giù. Ci vedi tu, domatene, per vedere che ti ha vettone, che non è detto che ti ha vettone, domani ci stanno. E cosa è, ci... Boh, eeeh... E poi quando lo organizzi? Che cosa? Cioè, se non sappiamo la risposta, questa la vedrà domatene. Domatene, se vede su un comune, su. Allora, te le lascio a te, queste? Eh, allora che faccio? Prepararlo. No, prepararlo va bene, ma poi che faccio? No, ma se, a parte che potrebbe stare pure aperto. È aperto, sì. Ma indipendentemente dall'aperto, si tratta pure di dire, comunque domani mattina per... Per... Per cosare. No, ma di mao, c'è schippetese, c'è i temi. No, per discutere, per vedere con l'amministratore, che ti ha vettone. Se ci stai, ti ha vettone. Ah, forse è meglio. Ah, forse è meglio. Forse è meglio. E l'italiano che se ne interessa? Sì. Eh, se viene sto mulo, perché ieri ha lavorato, ma se l'altro ieri pure non crede che ci staterai. Comunque, noi vediamo. Ciao. E poi ci sentiamo a sera magari. Ciao. Ciao. Grazie.